Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con The Last Fate. Allora, quando ci siamo salutati sono andato a farmi un giro per trovare, visto che abbiamo preso il potere di spostare quei mattoni giganti, allora ne ho trovato uno qua sotto, un altro è lì proprio al maniero, uscendo, e poi girovagando qui, vi ricordate la fontana dove diceva che ci voleva l'anello? Beh, ho trovato a uno, ci ho parlato e poi il personaggio nostro ha premuto il pulsante e si è aperto una scala, però io non ci vado adesso, perché io adesso vorrei vedere prima i mattoni, quindi qua sotto, poi c'è quell'altro lì al maniero, quindi innanzitutto mi sono teletrasportato alla città di Midringal, qui, che praticamente questo è il distretto ovest, no scusate, il distretto est, dove siamo adesso, scendendo in giù, arriveremo là sotto, dove c'è il segno giallo, quindi, scendendo con l'ascensore, andiamo a vedere, dead, ma tu dimmi se ne, da열i ne cos die! andiamo a vedere ... ... ... ... ... ... eccolo qua guarda che coglione si ma qua queste fialette qua sono già finite quel bastardo di ridottore ce ne ha fatti consumare una marea allora abbiamo spostato e quindi adesso ho un'altra scena 2007 buono mi porta su alte mure di Midringal mazzo nuova aria proprio mappa primo livello mappa secondo livello mappa secondo livello ah qua c'è un ah ecco qua primo livello e ci ha portato qua no allora questo lo faremo dopo è tutta un'area nuova qua è chiuso salvataggio salvataggio dove siamo? chiesa di caterina siamo aspetta 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 potrebbero non essere a 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 Temo che sia stato profatto al mare. È lungo, è vero, è vero, è vero. Allora, frammenti, rimuove l'effetto di congelamento. Allora, aggiungi ghiaccio alle armi, ok, concentrazione, ok, questo qua, se ce li dai vuol dire che qua due me li prendo, e due me li prendo, ok, e, ah ma di qua non vado da nessuna porta però. C'è la strada però, non ci arriviamo ancora. Secondo me, credo eh, ma il doppio salto lo dovremmo prendere prima o poi. E' perchè ci sono punti che non ci si arriva proprio. Qua è chiuso, non si capisce come cazzo si apre. Quindi, qua, l'amo fatto. Che mi ha dato? Ah, vabbè, le cose. Equipaggia. Mi piaccio. Eh, ma se io lo voglio togliere. Eh, ma io non lo voglio, lo voglio togliere. Non me lo fa togliere. Sono le bombe. Perché non me lo fa? Ah, rimuovi, ok. Bomba elettrica, una canica. Ok, ehm. Ah, ritorno un attimo indietro. Quindi mi prende il teletrasporto e andiamo a questo punto nuovamente al maniero. Andiamo al maniero. Il livello lo posso fare. Le armi non me la posso potenziare. Uno di forza. Ok, mille ci sono rimasti. Ci dobbiamo comprare un po' di energia dalla tipa. E dovevamo pure parlare con questo. La maggioranza? Niente. Ministero di Yunus. Ladek e questa ministra di Yunus. Un man nonverso di posizione. Su potenza di... Alas. Il restante è non la sola locazione Ladek ha sottilato con il suo muc. Il muc che ti ha guardato è quello che ho visto prima. Lo so. Ladek ha sottilato. E' una nuova. Non c'è l'unità. Non c'è l'unità. E' un'unità. E' un'unità. E' un'unità. E' un'unità. Ladek ha sottiliato con un'unità. E' un'unità. E' una nuova. E' un'unità. E' un voisinio. E' un'unità. E' un'unità. È un'unità. E' un'unità che lo conoscerebbe. and the places most revered only then will you begin to understand vabbè in deposito 20 30 ok va benissimo allora ragazzi da qua vedete pastiglia di stella alpina un'altra zona reddo primitivo allora quella c'è figlio di bastardo ma che cazzo ti volevo fare la mossa col triangolo vedete com'è si sfonda cazzo si scivola no sbagliato ma sbaglio sempre mi so preso due volte la medicina senza averne bisogno portacci tua la neve l'altro altare diario di manfred dopo scoprire una grande guerra eppure non posso affrontarla erlim è già caduto una volta una sola scelta ripudiare completamente la promessa che ha fatto a chi ha servito per tanto tempo così sia così sia ah beh e qua non passiamo ah no qua ma come dicevo non passiamo non passiamo i glu qua questi stelle stiti no i glu si rompono ma se li cadiamo sopra ci faranno male dobbiamo sempre fare la prova eh infatti eh queste non si aprono se strade qua non si aprono allora inventario bomba a gelo ok eh qua punto interrogativo l'hai messo ma chi ha messo la fama ha messo metterla qua ok così almeno sappiamo che c'è sotto e sopra bomba bomba ah con le bombe premi triangolo per prenderla dall'altare una potente bomba negros che esistisce lo stigma attuale mentre trasporti una bomba premi R1 e triangolo per lanciarla può esplorare un antigo se subisce dei danni R1 e triangolo eh ma sopra non ce n'è un'altra me la posso portare o mi esplodo addosso bene quindi sotto e sopra ah qua adesso andiamo a vedere ma che cazzo ma cos'è qua ma quindi eh quindi non c'è niente qua niente ragazzi qua non so non fa nulla qua vai a vedere che cazzo è qua un enigma né la chiesa 1 2 3 4 calici boh non lo so non c'è niente da st'altro lato niente quindi dobbiamo proseguire dalla continuiamo da qua figlio di puttana mi ha sputato quando arrivo che cazzo di bestia sei creatura spettrale di mortacci tua di mortacci tua non si apre la cia bomba va che cazzo di? e bastardo svingna 1 muori allora là c'è la bomba bisogna vedere se mi serve qua sopra si eh ma conviene sempre ammazzare perché da quello che ho letto abbiamo letto che se ci toccano sto cosa ci esplode addosso e ci fa danni che ho fatto ma porca troia sono morto ma che cazzo ha fatto dove cazzo sono sta in culo rompere le scatole che cazzo ha fatto no si è rotta già ok è caduto qualcosa quello si no ma volevo capire che cazzo è successo perchè ho fatto sta mossa qua ma non era R1 allora era R1 quadrato ah ma ha consumato questa qua quella non l'avevo mai vista vabbè R1 triangolo mentre R1 quadrato fa quella mossa che consuma la magia ok bastardo di merda allora non si apre si ma allora da qua non si apre la scala non se ne parla andiamo giù una bomba qua serve eh scusa ma ci sarà acqua non ce la farò mai a portarla fino a qua quella là bene bene polvere lunare per le armi aggiunge gaccia le armi ah no aggiunge gaccia le armi cosa mi sblocchi la porta sopra ok dastardo e spezzole le armi 2.009 buono ma dove cazzo sei sbucato ma dove cazzo l'armi 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 e ce n'è cazzo di strada ce n'è ok da qua c'è un checkpoint cazzo stardo qua c'è un checkpoint quindi non lo stavoliamo qua sotto si scende sì ma quello è quello che ho sbloccato sì sì che ho aperto la porta ok sì quindi andiamo sotto da qua e non si apre mettere di uno stellato è nel nome di Nova il distruttore di Yunas e dei suoi discepoli dobbiamo uscire dall'ombra di mostrare la nostra fedeltà abbiamo anche noi il nostro ruolo di sbagliare in questa collezione un micron capace di contenere il potere e dare la pace vabbè qua è chiuso come potete vedere ragazzi qua si prende facilmente la labirintite e vaffanculo che cazzo guarda là se partono e si puntano figlio scendi cazzo non ti prendo da qua maledetto bastardo che che ti prendo che ti prendo vabbè finita la magia anima di ghiaccio qua ci serve un'altra bomba e la dobbiamo trovare sta bomba però cristo santo sbagliato che ti prendo da qua oi non ti prendo da qua non ti prendo da qua che ti prendo da qua mi da proiettare la go go allora è il fuoco ciò vediamo se è debole al fuoco ma sono ghiacciato dove cazzo sei ah ma è lui che mi caccia dove cazzo sei l'inventario congelamento eh la voglio usare ma andate voi a equipaggiare per forza allora ma vaffanculo mi ha ammazzato c'è pure il caricamento dell'arma ci mette una vita e quelli guarda sto bastardo è caro cazzo niente devo corrermi a prendermi le anime so tosti guarda sto altro bastardo guarda è scappato guarda dove ne vaffanculo va ma porca di quella troia incredibile mattaccia tua no mandiamocene via da qua un attimino 12 mila anime vedi tu ok no vabbè io non ci credo cioè vado a caricare la mossa e non conviene allora i don't know i don't understand i don't understand No, non gli devi dare tregua, devi continuare ad attaccare, basta! Guarda, guarda, bastardo, guarda! Vieni, vieni! Ok! Ok! E dove cazzo vado qua? Da qui non vado pure che sargo qua, là non ci arrivo, quindi ok! Qua non possiamo andare adesso! Morale della favola, dobbiamo continuare da qua! Quasi 14.000 anima, si scende pure sotto, eh? Sì! Cazzo! 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 Vi morta! Nooo! Cioè, impressionante, no? Mi ha massacrato, è uscito il quadrato! Via, via, via! Guarda che questi mi ammazzano tutti altrassieme! Sì! Eee... Eee... Nooo! è cristo santo congelato e moriamo niente di corsa qua a riprenderci le troventa le anime che poi non ho capito dove cazzo ci porta quella strada cazzo non mi prende ma ci ha preso via via vaffanculo mi devo recuperare quelle via qua si scende c'è una cosa ghiacciata ma non so che cosa fa i mortacci vostri andate a fanculo va qua c'è una vediamo sotto se ci collega qualche salvataggio e là sopra come arrivo mamma mia 14.597 spostati siamo caverne caverne ghiacciate ok ritorno qua li mortacci sua allora con 10.000 mi comprerei quei guanti la che il tizio vende qua avendo già ah ce l'ho per aumentare le armi ah poi ragazzi ho trovato la frusta mi ero dimenticato pure di dirvi ma è veloce però non fa molti danni c'è già con questa allora aumentiamo progetto prototipo ci serve il progetto prototipo prototipo per aumentarlo va bene 12.000 acquista io adesso me la voglio acquistare dove cazzo ce l'aveva 10.000 guanti tecnologici garantiscono un appiglio migliore durante l'arrampicata su superfici specifiche e lisce ce li compriamo e vediamo oggetti chiave vedi ma questo in automatico credo che non è che mi dice equipaggiamento no vediamo no 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 e no quindi in automatico poi abbiamo 2.000 vediamo se almeno un livellino mi esce si la vita perché la forza abbiamo aumentato l'arma però vatti a ricordare dove era qualcosa là che si arrampica ah si 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 è aspettato forse mi sono ricordato allora qualcosa del ghiaccio ok qua la sotto la sotto quindi per andare la sotto si da dove da qua non è giù non è giù ah scendi bastardo Buongiorno Questo pure Come quel tempio che abbiamo trovato là Boh Che cazzo serviranno sti Ah Il vecchio Il venditore Ma di che parla? Il suo corpo La chiesa ha peccato E queste sono le conseguenze E' un momento che non sono mai Della mia madre Ho fatto in modo che l'uomo Che l'ha sequestrato Abbia soldato il suo debito Eh ma Eh no Ah ma non mi vende più niente Mi parla e basta Allora Dobbiamo vedere se è qua Allora questo lo tira Ah si E ci riporta su no? Vediamo Ok Torno giù un attimo Eccolo qua Ma lo vediamo Eh? Con i guanti Che vi ho detto io? Lo sapevo io Polvere Vabbè Chiave dell'ufficio Di Kerman Esperto di tecnologia Allora Abbiamo preso un trofeo La cicità Non affligge Eppure non riesco A distinguere Ciò che dovrei vedere Le ombre mi sfuggono A volte vedo un volto Ma senza lineamenti Forse ho intravisto Dal di là Un'occhiata A ciò che mi aspetta O vedo scorcio Di un regno Che appartiene A un altro mondo Che forse Non è neppure Immaginare Ah L'ente tecnologica Le ombre Ci apre ste porte qua Le porte spettrali Vedi Tutti in automatico E ce ne sono di ste porte Candela esplosiva Di origine Quando viene Allora Un'espressione Elettromagnetica Quando viene Questa è un'arma Va bene Questa è in automatico La candela 5,80 L'immortazione Però Costo considerato 55 20,14 Istinto 20 Requisiti Delle armi Perché funziona A dovere Ci vuole Tutta quella Potenza Alla di Mente Istinto Noi non ce l'abbiamo Noi abbiamo 11,11 Allora Nota del Nobiluomo Rituale di nobiltà Ok Vabbè Me ne può fregare Di meno Minerale Minerale Di demiombra Questo serve sempre Minerale di demiombra Già ce l'avevamo Vedete che non me lo segna A che serviva Per le armi No? Dove cazzo è? Potenza Le armi specializzate Ok Adesso Punti interrogativi Se non sbaglio Per ste porte No? Qua sopra È una E devo andare Qua Ah 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 Mo mi teletrasporto Vediamo Mi pare Che dove c'erano Sto porto Ho messo I punti interrogativi Mi pare Mo non me vorrei Sbagliar Salendo No Devo andare La Teletrasporto Il vecchio Non ho capito Allora questo L'avevamo spostato Passare Ragazzi Non ho capito Torno su Bene Spostamento Qua Non ho capito Qua ah no, qua ci vuole la bomba e dov'è la bomba qua? si verrà da un altro lato allora si verrà da un altro lato qua è una bomba qua bomba non ce n'è dove te la prendo io sta cazzo di bomba ok quindi qua niente qua sotto c'era un'altra cosa mamma mia quanta cazzo devo ritornare qua? cosa cazzo c'era? ci sono appena andato non ho controllato il passerotto è l'inizio quello è l'inizio non c'è niente quindi qua ci vuole la bomba e basta non c'è altro qua quindi poi ricordiamoci che c'è pure qua che ha aperto la scala per scendere sotto quindi dovrei ritornare qua per andare a vedere qua qua ci vuole la bomba dove cazzo la porto io sta bomba qua niente andiamo a vederla di nuovo e poi ci salutiamo ragazzi allora questa è la cosa del ghiaccio che stiamo facendo torniamo giù c'è sotto ah eccola là sì c'è un'altra porta di quella quella avevamo trovata ebbè affanculo oh non oh guarda andiamo a ma sono tosti eh! guarda quel bastardo eh sto cazzo ci ha ammazzato, sono più tosti degli altri! e mo? e mo di nuovo sotto! che due palle?! la facciamo col tempo se no ci salutiamo poi riprenderemo da lì dai! e figlio di puttana di nuovo! niente! maledetti! ah che cazzo ma veramente! sono tosti, sono tosti! andiamo di... andiamo da prescia! fateci passare! ehi ahi 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 si! riproviamoci! allora fuoco non ne ho! metti il ghiaccio! vediamo se gli facciamo qualcosa col ghiaccio! ma che cazzo siamo morti tempo zero! no vabbè! e niente ragazzuoli dai ci salutiamo qua e ci si vede alla prossima! vediamo di battere sti tre deficienti! e poter vedere che cazzo c'è al di là di... del passaggio dopo che battiamo questi tre! un saluto a tutti ragazzi e al prossimo episodio! ciao! 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 ciao!